Sto bene, sto volando. Se volessero dire se una macchinista fa di un po' di fronte, cioè di tassi dentro, va di un po' di torno. e non voleva perdere il suo trono quindi pensava potrebbe essere preparato con una balletta per farlo un po' di più grazie Sì. Grazie. 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 Grazie.